ciao in questo primo tutorial vediamo l'approccio geometrico in levare con le ghost note quindi che devono arrivare in levare di sedicesimo per cadere sul battere con la nota reale vediamo tre esercizi nel primo dobbiamo mettere una ghost note quindi sull'ultimo sedicesimo prima del battere ok per cadere sul battere sulla cassa e rullante 1 2 3 e 4 nel secondo abbiamo due sedicesimi che cadono sulla sulla nota reale e nel terzo tre sedicesimi quindi levare di sedicesimo più tre e cado vado a cadere esattamente sul sull'uno approccio geometrico perché nel primo partiamo dal dal sol e poi verrà fatto per tutte e quattro le dita quindi è un approccio meno musicale ma che serve per esercitare bene ogni dito per fare la appunto la ghost note e su ogni corda quindi quel nel primo esercizio partirò da sol farò 1 2 3 e 4 come come dita quindi tasto 3 tasto 4 5 e 6 e poi cambierò cambierò corda quindi rispetto alla partitura qualche ti troverai molto probabilmente ti sarà molto più comodo guardare la tablatura sotto per le posizioni in quanto appunto come approccio questo è più geometrico quelli musicali arriveranno poi poi dopo nel secondo la nota di partenza sarà un la quindi io avrò la la diesis si e do e poi tutte e quattro le corde sempre 1 2 3 4 senza spostare la mano e nel terzo partirò invece dal si quindi tasto 7 8 9 10 per tutte e quattro le corde l'ho fatto un pochettino spostato per ogni esercizio proprio per farti provare a suonare in tutte le porzioni della tastiera molto probabilmente vedrai che in questa zona più in alto siamo e più è difficile perché abbiamo i tasti che sono un pochettino più larghi e quindi potrai trovarlo un po più faticoso rispetto a quello che parte dal tasto 7 o comunque devi abituarti a suonare in tutta la tastiera con con disinvoltura sotto troverai delle batterie per esercitarti che sono secondo me la cosa più importante innanzitutto queste batterie hanno soltanto hanno sicuramente i sedicesimi sotto quindi tipo una ruota che che gira e tu devi andare ad interiorizzare questi sedicesimi che che scorrono in modo poi da poter suonare con disinvoltura su qualunque di questi e sapendo dove ti trovi nella prima batteria o anche chiaramente riferimento della cassa del rullante 2 3 4 che sono le note su cui devo cadere nel primo senti che sulla cassa sul rullante cado sulla nota reale la ghost viene fatta sull'ultimo sull'ultimo sedicesimo prima prima del battere posso poi insegnarmi le velocità all'esercizio 1 2 3 le velocità comfort velocità limite comunque il database è anche modificabile quindi se vuoi poi anche inserire delle altre informazioni inserisco poi di interessante anche una seconda batteria che ha sempre i sedicesimi ma mi va a togliere i punti di riferimento del battere e quindi sarò io che devo andare a interiorizzare questi sedicesimi e contare e contare giusto chiaramente qua la velocità tieni una molto più bassa perché prima di entrare 2 3 4 quindi dentro devi avere sentire questi sedicesimi e riuscire a contare e distinguere i quattro quarti ti assicuro che in fase di studio questa cosa è molto non è per nulla facile però io la trovo molto utile appunto proprio per interiorizzare il tempo per sviluppare un proprio batterista interiore che conti sempre ok ti ho detto tutto buon lavoro e ci vediamo per le spiegazioni degli altri video